Benvenuti su Ultima Hora News. Nel video di oggi parleremo del triste addio a Marcella Bella, dato in diretta televisiva nel programma di Mara Venier. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. Marcella Bella, famosa cantante, come è noto a tutti, da tempo non si mostra in pubblico, suscitando curiosità sui motivi della sua assenza. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non le è accaduto nulla di grave, è viva e ha semplicemente scelto di cambiare vita stando lontana dai riflettori. Ha deciso di ritirarsi dalla scena pubblica per vivere una vita molto più tranquilla rispetto a quella che ha vissuto fino a qualche mese fa. La sua nuova casa si trova a Ibiza, in Spagna, dove ha scelto di trasferirsi per godersi una vita diversa. Durante un intervento a Domenica in Commara Venier, ha condiviso le ragioni dietro la scelta di questo particolare luogo, dicendo Un posto piccolo, dove tutti mi conoscono e mi amano ormai, ma non tutti sanno che sono una cantante. Ho più libertà perché non mi riconoscono, è un posto simile alla Sicilia, anche lì ci sono tutte quelle piante grasse, i fichi d'India. La sua decisione di lasciare l'Italia per Ibiza ha suscitato molto dibattito tra i fan, ma riflette il desiderio di una vita più riservata e tranquilla. Ibiza, nonostante sia un'isola turistica d'estate, offre angoli tranquilli dove è possibile vivere a contatto con la natura e il mare. La scelta di Marcella rappresenta una ricerca di privacy e serenità, non lontana culturalmente e geograficamente dall'Italia. Al momento, non è chiaro se Marcella Bella tornerà a partecipare a programmi televisivi o eventi pubblici, ma per ora sembra godersi appieno la sua nuova vita in Spagna. E tu cosa ne pensi della scelta presa dalla cantante? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.